Eh signori, questa non è proprio una buona notizia, perché comunque, mi dispiace, comunque domenica potrebbero non correre la Moto3, la Moto2 e la Sprint di MotoGP. Perché la Sprint della MotoGP? Perché hanno spostato la gara ufficiale al 100% di sabato, perché può esserci un uragano domenica di una roba del genere in Australia lì. Quindi, la Moto3, la Moto2 e la Sprint della MotoGP sono le meno importanti, quindi possono annullarle. E basta. Quindi sarà, quindi comunque anche per me sarà un casino, perché comunque innanzitutto, cioè penso che questo sarà il weekend più incasinato di MotoGP che abbia mai visto. Allora ragazzi, io asseguo tre sport. MotoGP, Formula 1 e la mia unica fede calcissima nella Roma. Per la Formula 1 non è un problema, perché stanno negli Stati Uniti e è tutto di sera. Tutto di sera in live, non ci saranno problemi. La Roma sta le 12 e mezza di domenica e la partita è una seccana, è che c'è stanno le differite. Però, dovrebbe finire in tempo per la MotoGP, che è vera. C'è la Sprint di MotoGP che sta le 2 e un quarto. Sto parlando degli orari di differita. La 2 e un quarto sarà di differita della MotoGP. Quindi, dovrebbe essere in questo modo. Cioè, se non ce la facessi a vederla, potrei stare un minuto o due in live dietro della MotoGP, perché comunque posso rimettere dall'inizio. Però comunque, mi piacerebbe vederla live. Però non so se è proprio live, live, live la vedo. Moto3 e Moto2 non si sa veramente di domenica cosa succederà. La gara Sprint ovviamente, cioè, comunque di domenica la gara Sprint di MotoGP si vedrà. La Moto2 e la Moto3 è un casino che non ha fine. Soprattutto per la Moto2, perché sta in contemporanea con la Roma, anche la differita. Però, comunque c'è sto uragano, quindi non si sa. A sto punto spero che non le facciano. Che veramente, se non è un casino clamoroso, cioè, veramente non potrò portarvi contenuti. che mi dispiacerebbe un casino. Quindi, diciamo, si vedrà. Vi aggiornerò in entrambi dei video. Però, se qualcuno segue come me, comunque, calcio e motosport, sarà veramente tosta. Sarà veramente tosta da sopportare. Sarà il weekend più assurdo, cioè, più incasinato di MotoGP, almeno, che succederà. Volevo avvisarvi di questo. Va bene. Ciao.